Dopo la richiesta di secessione dell'Università Marconi avanzata dal rettore, io volevo portare alcune riflessioni, ho accettato l'invito di serie dei colleghi che hanno a proposito perché non vi siete seduti qua, dato che siete i promotori, ci lasciate soli. Comunque sia, l'Università non poteva ignorare questo passaggio, quindi ho accolto con molto piacere anche perché poi sul problema del mezzogiorno avanzerò alcune riflessioni, anche per conto dei miei colleghi Riccardo De Bonis della Banca d'Italia, che ha guidato il gruppo della Banca d'Italia che ha fatto questa ricerca intitolata, pubblicata alla terza, Sviluppo, rischio e conti con l'esterno delle regioni italiane. Si scusa, De Bonis era impegnato, voi sapete che è terminata la relazione dopo due o tre mesi di lavoro intenso, il servizio studi si disfa per circa un mese, chi va in vacanza chi assolve altri compiti, quindi si scusa De Bonis, come si scusa a Zeno Rotondi, che è il capo del servizio studi di Unicredito Banca, il quale ha guidato il gruppo dei ricercatori di Unicredito. Però ancora prima di dirvi i motivi e i risultati, i motivi per cui abbiamo fatto questa ricerca e i risultati raggiunti, le mie riflessioni sono che l'unificazione d'Italia, come lo sapete a metà del XIX secolo, avvenne in un vuoto di conoscenze economiche sul piano teorico e su quello statistico. Non c'erano statistiche in quell'epoca, non c'erano, direi, elaborazioni teoriche che consentissero, che giustificassero il tipo di unificazione. L'obiettivo di Cavour era quello di tramutare, come sapete, il Ducato in un regno e soprattutto per seguire la modernizzazione del paese. Questo era proprio un termine che si usavano in quell'epoca. Infatti allora era fondamentalmente un'economia agricola con qualche puntata industriale, soprattutto nel tessile, nell'estrattivo e una leggera, direi, segnale che avanzava la metallmeccanica, era l'epoca. Dovevano essere completate le infrastrutture, le strade ferrate e le strade vere e proprie, ma soprattutto, che è direi la spinta maggiore che si è avuta all'inizio dell'Unità d'Italia, soprattutto con la collaborazione dei francesi che avevano sostenuto molto l'iniziativa, gli inglesi erano rimasti abbastanza freddi e ovviamente i tedeschi e i austriaci erano contrari. L'idea era dotare le città di un sistema di erogazione dell'acqua, dell'energia e delle fognature. Queste erano le ambizioni infrastrutturali degli obiettivi economici perseguiti da Cavour. Vi è un altro punto sul quale invece la ricerca degli storici economici non è andata avanti, che è il problema della unificazione monetaria, dove io mi muovo con un po' più di dimestichezza. Non si sa se per consapevolezza o per ignoranza, e quindi mi rifaccio al fatto che le conoscenze teoriche e statistiche erano modeste. L'unificazione fra la Lira Sabauda e la Lira Tornese fu stabilita alla pari, uno contro uno, mentre alcuni calcoli grossolani che ho fatto con degli amici, ho discusso questo con Rosario Romeo, il quale era abbastanza interessato, poi dopo, come voi sapete, è scomparso improvvisamente, era nell'ordine di quattro. Cioè è successo qualcosa di simile, in un'epoca completamente diversa, con gli strumenti che possono essere controllati meglio, a quello che era successo fra il Marco Est e il Marco Ovest dopo l'unificazione tedesca. Aveva stabilito Cole il rapporto 1 e 1 perché voleva avvantaggiare, era una decisione cosciente, voleva avvantaggiare il potere d'acquisto della popolazione tedesca che era rimasta isolata per colpa di tutti i tedeschi, per i notti motivi sui quali non è il caso che si tornasse. Questo però che cosa ha fatto? Ha danneggiato, tenete presente che tutta l'industria fotografica della Germania Est era la più avanzata del mondo, naturalmente, quando gli dai un rapporto di cambio di uno invece di quattro, quando tu esporti e hai un Marco invece di quattro, la situazione ovviamente degenera. Beh, quello è quello che è successo nel mezzogiorno, questa. A mio avviso la componente monetaria che non è stata ancora studiata, io anche con i miei colleghi della Banca d'Italia insisto, può essere uno dei motivi del sottosviluppo. Allora, è stato fatto per coscienza o è stato fatto per ignoranza? Io propendo per l'ignoranza. Però che cosa ha determinato anche? A quell'epoca, come voi sapete, le monete erano in un qualche modo, in un qualche percentuale, la vicenda della lira italiana sono alterne legate all'oro. Quando tu stabilisci un rapporto di cambio di uno contro uno invece di uno contro quattro, tutto all'oro si trasferisce dalle aree direi svantaggiate alle aree avvantaggiate del nord. Quindi abbiamo due effetti, il rapporto di cambio e quindi il fatto che gli esportatori del mezzogiorno incassassero uno invece di incassare quattro e in più il deflusso dell'oro che era la base di riferimento del sistema monetario. Questo congiunto effetto che, aggiungo un terzo punto, una terza riflessione, anche da questo punto di vista ci stanno lavorando in molti ma non hanno raggiunto quell'evidenza che dovrebbe dirimere la vertenza. Il mezzogiorno era più industrializzato del nord, è vero che il nord aveva l'industria tessile ma il sud aveva l'industria estrativa, aveva in particolare il sale che era direi un prodotto strategico per quell'epoca. Ed erano anche tecnologicamente avanzati, come è noto la ferrovia Napoli-Portici è stata costruita un paio d'anni prima della Torino-Monza o Milano-Monza, sì esatto. Tutte e due al servizio delle regge, come è noto, però questo testimoniava il fatto che il mezzogiorno, anche dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, non è molto arretrato. Quindi erano questi componenti molto importanti. Naturalmente dopo l'unificazione d'Italia, attraverso i leader portatori delle istanze meridionaliste, cito solo alcuni nomi illustri, Giustino Fortunato, Francesco Saverionniti e Gaetano Salvemini, hanno posto immediatamente la questione meridionale, che era soprattutto una questione economica. Questo è l'altro passaggio, non era una questione sociale. Mentre esistevano differenziazioni, chiamiamole antropologiche culturali, tra il nord e il sud, senza direi scivolare nel razzismo, certamente il mezzogiorno da cui provengo anch'io è direi culturalmente abbastanza diverso dal nord per tutta una serie di motivi storici. Culturalmente, per certi versi il mezzogiorno, stranamente proprio nel settore monetario, con Antonio Serra, Ferdinando Galiani, erano più avanzati e stranamente non parteciparono a questo dibattito, che invece secondo me era molto importante. Ma anche perché ancora una volta, come l'abbate Galiani e Antonio Serra, passò la vita in galera. Pare che abbia partecipato alle sommose guidate da Campanella, che voleva creare la Città del Sole e quindi il re non era così d'accordo che ci fosse questa democrazia. Allora lo misero in galera, ci stesse per i anni e il re ogni tanto lo chiamava fuori, si faceva dare consulenza e lo rimandava in galera e lui prestava. Conosciamo per iniziativa di un mio collega Enzo Grilli, ciò che ha fatto e qual era l'origine di questi studi riguardanti appunto proprio il rapporto di cambio, mentre Galiani, come è noto, girava per il mondo e a quei tempi gravitava su Parigi, sulla Francia, che era direi che è il leader in questo campo. La questione meridionale raggiunge il suo livello politico con De Gasperi. De Gasperi ha coscienza che deve affrontare questo problema. Sergio Paronetto, tema che stiamo studiando con i colleghi della LUIS, in particolare Giovanni Farese, convince De Gasperi a non sciogliere Liri, perché De Gasperi voleva sciogliere Liri perché la considerava una tipica creatura del fascismo. Questo errore l'ho commesso anch'io, però in gran parte l'ha voluto Andreata, nel senso che abbiamo sciolto Liri proprio nel momento in cui i fondi sovrani incominciavano ad affermarsi, ma questo è un altro discorso, se volete un giorno lo facciamo. In ogni caso, Paronetto convince De Gasperi a non sciogliere Liri e lui dice io non lo sciolgo, però Liri si interessa del mezzogiorno e si affianca per il settore industriale alla Cassa del Mezzogiorno che era nata per le opere pubbliche, 1950. Nel 1954 dà incarico a Vanoni durante il congresso della DC a Napoli di presentare il primo piano via Vanoni, 5% di sviluppo in termini reali, grande quota degli investimenti, 60% nel mezzogiorno, quindi sembra che ci sia un forte impulso. Eppure il problema nasce da questo, nasce dal fatto che incomincia una forte politica chenesiana di immissione di risorse esogene dal mezzogiorno sotto forma in gran parte di contributi in conto capitale, contributi in conto interesse, presenza dell'industria pubblica e qui arrivo alla risposta che darei alla premessa del rettore. Nasce un tale intreccio tra le regioni italiane, tra il nord e il sud, che tu oggi si trovi in una situazione e questa ricerca ha sfondato, perché a un certo punto Zeno Rotondi è stato convocato alla Commissione per il federalismo e ha partecipato portando queste evidenze, è nato un tale intreccio che se oggi il nord avesse successo nel ridurre fortemente, fino ad annullare come vorrebbero loro, i trasferimenti dal nord al sud, il primo a pagare il costo sarebbe il nord, perché questi fondi ritornano più che proporzionalmente al nord. Quindi è nato un tale intreccio che per metterci le mani oggi tu potresti causare un danno irreversibile al modello di sviluppo italiano. E qua arrivo, e non perdo molto tempo, alla conclusione, alla sostanza della nostra ricerca e alla conclusione delle mie riflessioni. La situazione è come è stata stimata con la collaborazione della Banca d'Italia. Tenete presente che la Banca d'Italia è molto restita ovviamente a stabilire collegamenti così stretti sia con banche che con privati ricercatori. Io partecipavo, pur essendo Presidente del Banco di Roma allora, partecipavo da privato ricercatore. Però quando hanno visto i dati che avevamo prodotti, sono talmente convinti che la linea di ricerca era una lira meritevole di essere portata avanti, che hanno deciso di partecipare ufficialmente a queste iniziative. Le conclusioni che abbiamo tratte, che richiedono ulteriori ricerche, e poi vi spiegherò il perché, di che informazione abbiamo necessità, indicano che cosa. Questa è stata da me negli anni 70, quando mi interessavo della regione, della mia regione, della Sardegna, io avevo battezzato questa ipotesi esplicativa dello sviluppo meridionale, poi estesa all'intero territorio a seguito di questa iniziativa, la cosiddetta teoria della pentola bucata. Cioè tutto ciò che è la Cassa del Mezzogiorno, tutto ciò che l'Iri, tutto ciò che lo Stato trasferiva nel Mezzogiorno, defluiva, è come se tu lo versassi in una pentola bucata. Allora, ogni anno, mediamente, nel decennio che termina nel 2006, e adesso abbiamo già aggiornato, abbiamo interrotto nel 2006, abbiamo già il 2007, perché nel 2007 inizia la crisi, quindi non volevamo essere influenzati dalla grave crisi internazionale, ma intendiamo seguirla e produrre i dati per vedere intanto l'impatto della crisi internazionale e poi per vedere che cosa sta succedendo. E già iniziano alcune, direi, buone informazioni fin dal 2007 che confermano quello che ti dicevo privatamente, che la crisi nel Mezzogiorno non è sufficientemente grave, per generare una reazione anche politica da parte delle popolazioni meridionali. Adesso mi sgridi, giustamente, mi sgridi, perché ovviamente quando si fanno queste cose i telefoni devono essere chiusi. Vedete questo grafico? Ogni anno il Mezzogiorno perde 72 miliardi di Euro, ora 72 miliardi di Euro sono circa il 5% del PIL, mediamente, poi andiamo a vedere i dettagli, ci sono situazioni come la Calabria, la Calabria ogni anno perde più del 30%, un terzo del proprio reddito defluisce, quindi lo sviluppo del Mezzogiorno è come avere lo sviluppo legato in cima, una canna sulla schiena e tu insegui, perché ogni anno devi ripartire, non da zero, devi ripartire da meno qualcosa e quindi devi ricostituire fino a generare nell'economia uno stress da compensazione, così l'abbiamo chiamato. Come finanzi? Perché è chiaro che per poter ripartire tu devi a un certo punto colmare queste perdite, questo buco nell'appento. 45 miliardi provengono dal nord e questa è la questione settentrionale su cui si pongono, che è la gran parte. 10 provengono dal sistema bancario, dall'inizio del 2000 il sistema bancario investe nel Mezzogiorno più di quanto non raccolga nel Mezzogiorno e quindi cancella uno delle accuse che rimbalzano costantemente tuttora. Io ero in Sardegna al Rotary Club e subito sono scatenati, sapendo che io ho una vasta esperienza del settore bancario, su questo tema io gli ho portato le statistiche dicendone che le banche investono più di qualche raccolgo. Per un netto di 10 miliardi, medie annue, sto parlando di medie annue, quindi in dieci anni 72 miliardi diventano 720 miliardi di deflusso che c'è stato, di cui vi dico subito che 63 miliardi sono il deflusso nei confronti del nord, cioè si importa dal nord, quando dico nord dico centro nord, chiaramente, evidentemente, per semplicità, e solamente 9 miliardi è il deflusso nel resto del mondo. Questa è, direi, la situazione. Che genera un altro problema, che è il problema del Mezzogiorno, è il problema dei rapporti nel territorio. Non è il rapporto con l'estero, dice, ah ma non siete competitivi, non riuscite a esplorare. Questo è un risultato curiosissimo per cui ci stavamo infilando e la Banca d'Italia ha detto, calma, prima facciamo uno studio un po' più serio, io mi posso permettere, infatti parlo a titolo personale, nell'appunto che ho preparato, specifico questo, questa è la mia interpretazione, che il problema è un problema territoriale. Cioè, quando a un certo punto le regioni aprono o fanno le fiere, partecipano alle fiere internazionali, se spendessero quei soldi per tentare di esportare nel territorio italiano sarebbe molto più fruttuoso per loro di quanto non si è. E quindi questo cambia anche la polisi regionale. 5 miliardi è la stima che sono stati fatti di interessi su titoli pubblici e raccolta postale. Cioè, le popolazioni meridionali comprano titoli pubblici e tengono presso le poste, in questi giorni stanno impazzendo, c'è un mio amico auristano che non riesce a incassare da tre giorni, cioè i conti solamente con le poste, oggi sono le proteste ufficiali sui giornali. Comunque incassano 5 miliardi e 5 miliardi è 0,35 di PIL, quindi è una cifra abbastanza interessante, ma niente in confronto ai 45 miliardi. 4 miliardi sono gli investimenti diretti delle imprese del centro-nord, imprese pubbliche e imprese private, ed è bassissimo, ciò significa che in questo periodo la spinta degli investimenti del mezzogiorno si è ridotta fortemente. Il turismo dà un gettito netto ridicolo. Io faccio sempre, netto, ciò significa importazione e esportazioni. Io faccio sempre l'esempio in Sardegna, tu ti siedi e trovi il miele ambrosoli, io sono convinto tra un po' ambrosoli mi querela, perché ogni volta dico ma perché comprate il miele ambrosoli e non comprate il miele sardo, che è buonissimo, la risposta che mi fa il circuito distributivo, perché i produttori di miele sardo non sono organizzati, bene organizzatevi, ed ecco queste le politiche regionali. Comunque il turismo è del tutto ridicolo, tenete presente che praticamente 3 miliardi è grosso modo la cifra che incassano al netto Sicilia e Sardegna, anzi nell'ordine Sardegna e Sicilia. Non siamo riusciti a stimare 5 miliardi, cioè nei nostri calcoli, quindi abbiamo indicato questo residuo, però questo è il modo attraverso cui si compensa la perdita annuale di 72 miliardi. Adesso, prima di trarre delle conclusioni, vado dove, ecco qua. Queste sono le bilance dei pagamenti regionali e naturalmente hanno sia i rapporti con l'estero, sia i rapporti con l'interno. Veniamo al nostro amico Bossi. Il nostro amico Bossi, ammesso che a un certo punto lui parli di sola Lombardia, come dovrebbe, perché il Veneto è l'unica regione che sul territorio ha piccoli vantaggi netti verso l'interno. vedete il Veneto, l'interregionale ha un surplus di 2.1, la Lombardia 23,1. Ciò significa che un quarto del prodotto regionale lombardo dipende dalle vendite dei prodotti lombardi nel mezzogiorno. Smontate questo. Quando io dico, attenzione, se voi avete successo nel non mandarci più 45 miliardi, la vostra economia entra in una recessione irreversibile, vai a colmare un quarto improvvisamente. Mentre il Veneto è indipendente. Il Piemonte invece importa dal mezzogiorno, non so come, forse perché è pieno di meridionali, Torino e Lezzone, e allora questi importeranno mozzarella, formaggio, di prodotti, e quindi chiaramente vi sono dei vantaggi comparati. Ora, passiamo all'estero. Il Veneto ha un surplus di 5.5, quindi può vantare di avere la migliore industria esportatrice. La Lombardia, che si tratta a tante aree, ha un passivo di 6.9 sull'estero. Quando ho presentato questi dati a Milano, Marco Fortis ha subito reagito e mi ha detto, sì, perché noi importiamo tecnologie e quindi siamo più dinamici. Gli ho detto, portami l'evidenza che importate tecnologie, io do un giudizio meno severo. A mio avviso, la Lombardia ha un effettivo vantaggio comparato nel territorio italiano e uno svantaggio comparato, pur dandosi tante aree, hanno il made in Italy, tutte le cose, come sapete, nei confronti dell'estero e perdono il 6.9% del loro reddito nei rapporti con l'estero. In Piemonte ha un surplus quasi superiore a quello del Veneto. si parla della crisi piemontese, eccetera, eccetera, e questa è la situazione. Andiamo al mezzogiorno e andiamo subito al confronto. Abbiamo detto, la Lombardia ha un passivo di 6.9. Pidiamo la Calabria, che è quella peggioridotta, che ha il 30,8% medioannuo di perdita, è la penultima riga, come avete visto, è la seconda colonna, e quindi perde circa un terzo del proprio pile ogni anno, immaginate la fatica di ricostruire. C'è un passivo sull'estero trascurabilissimo. Sì, è un indicatore di sottosviluppo, questo non c'è dubbio, perché è bassissimo in valore assoluto, io ho anche i dati in valore assoluto e ve li segnalo, ma non voglio annoiarvi, voglio segnalarvi solo questo punto. Vedete la Campania che addirittura ha un surplus? Le aree dove la Camorra ha, direi, un ruolo molto molto importante, c'è un surplus nei confronti dell'estero e c'è un passivo del 20% nell'interregionale. La situazione è estremamente variegata, non sto, ripeto, ad annoiarvi, ma se scorrete la seconda colonna, vedrete che tutto il mezzogiorno c'è un passivo di bilancia nei confronti del territorio nazionale, di dimensioni elevate, se andate invece a guardare i rapporti con l'estero, vedete che il passivo ce l'ha solamente la Sardegna, la Calabria e la Sicilia, Sardegna e Sicilia in gran parte per il fatto che importano petrolio, lo raffinano e vendono la benzina sul posto e quindi ti rimane un passivo. Tenete presente che la regione Sardegna è uscita dall'obiettivo 1, quindi dagli interventi dell'Unione Monetaria di Bruxelles, per la sola presenza della Saras. Per giunta la Saras, avendo sede legale a Milano, paga le tasse a Milano e neanche i sede. Alla mia domanda, ma quando scendete in piazza per fare pagare le tasse, perché poi per statuto regionale il 90% delle tasse pagate dall'impresa devono ritornare alla regione e non lo fanno, allora ognuno la pensi come vuole del perché, ogni volta che io dico fatti un po' cosa, così come mi querelerà la mia Lambrosoli, Lambrosoli penso di avere prima o dopo una querela da parte di Moratti. Comunque so che lui diglina i denti quando io presento questi tipi di analisi. Poi perché lui debba pagare a Milano, non debba pagare... Soprattutto... Sì, ma hanno Pisapia, adesso quindi a un certo punto possono pagare le tasse in Sardegna. Ma questo è un'altra cosa. Ma non hanno Pisapia. Allora, conclusioni e vi ringrazio per l'attenzione e la pazienza. Dimmi. Che cos'è la terza colonna? La terza colonna è la somma algebrica tra l'estero e l'interregionale. È il totale del buco. Questa è la perdita del potere d'acquisto. Allora tu hai che ogni anno la Lombardia inizia con 100 l'anno e finisce con 116. Se voi andate alla Sardegna, ogni anno la Sardegna inizia con 100 e finisce con 74. Ed è un deflusso contrario. Infatti io ho proposto il patto, il vero patto della Sardegna invece di stare a inseguire lo Stato a farsi dare i contributi. Il vero patto è col sistema distributivo. Vi faccio un esempio. Io sono stato con lo studio Ambrosetti consulente di queste cose con Vendola il quale avrà tanti difetti ma capisce bene l'economia e ha voluto seguire questa linea con Viesti il professor Viesti mio collega che era il responsabile delle tecnologie della zona infatti sono quelli più avanzati sulle energie alternative e a un certo punto gli ho spiegato queste cose qui. Il gruppo che finanziava questa ricerca comprendeva le cooperative emiliane che pagavano una cifra da ricerca molto forte. Allora cortesemente io ho chiesto alle cooperative emiliane che mi dessero la loro bilancia dei pagamenti con la Puglia hanno dato le dimissioni dal gruppo e non hanno più finanziato la ricerca il che significa che chiaramente loro vendevano come io ho visto nella bilancia dei pagamenti perché poi in questo libro c'è tutto ci sono i tre settori esportativi i tre settori di dipendenza noi diamo tutto con le percentuali sul PIL e avevo visto che nelle Puglie il famoso tavoletto delle Puglie c'era un passivo netto nell'agricoltura gli ho detto beh allora vedi cosa allora gira che ti gira abbiamo trovato le cooperative emiliane che avevano una rete distributiva e ci hanno tuttora molto molto forte le quali allora il vero problema è un patto tra rete distributiva e rete produttiva soprattutto nei settori dove il mezzogiorno sono in grado oppure non dico di creare come è stato creare o chiudere le industrie automobilistiche fai almeno l'assemblaggio dei pezzi oppure mettiti a fare il freno a mano le cose elementari cioè la programmazione sono arrivato alle conclusioni la programmazione deve essere una programmazione mirata il problema numero uno dell'industria meridionale non sono i trasferimenti pubblici i quali tengono fuori mercato l'economia e impediscono all'economia di reggere ci sono esempi straordinari a Grottaglie la Fimeccanica ha creato iniziando a costruire sei fusoliere per il Boeing adesso ne devono costruire 80 sono nate circa una cinquantina di imprese di servizio di lavori piccoli tipo freno a mano o pezzetti ed è diventato un centro straordinario e altra ricerca della Banca d'Italia si scontrano contro direi gli equilibri e le burocrazie perché per trasportare queste fusoliere hanno dovuto costruire un aeroporto straordinario dove atterrano i Boeing che devono caricare le fusoliere una cosa gigantesca però non lo fanno non lo fanno utilizzare dagli aerei privati perché altrimenti crollerebbe l'aeroporto di Taranto di Cosenza quelle zone che voi sapete sono più difficile e per giunta non ci sono le strade per il trasporto sono problemi e questi sono i problemi da affrontare nel senso di studiare dove è possibile realizzare qualcosa e chiedersi che infrastrutture sono necessarie affinché prosperi e non diventino cattedrali del deserto in Sardegna la Remosa che ha iniziato a vivere faceva valvole cracking e fa valvole cracking per la Moratti per la Saras della Moratti ed è riuscito a creare un sistema di progettazione delle valvole per via informatica e di calcoli relativi per cui se ti chiedono di usare un altro materiale o di apportare una correzione alla valvola loro hanno subito il conto industriale che esce dal computer tant'è che i cinesi sono disposti a pagare per avere il sistema informatico cifre allucinanti che vacilla ogni tanto viene da me e dice Paolo devo vendere non devo vendere io dico non devi vendere anche perché l'imprenditore si deve rendere conto che il suo prestigio è legato alle sue capacità di continuare a affrontare le difficoltà e non di essere ricco non essere ricco andandosene nei mari del sud bene la Remoso è diventato il secondo produttore mondiale stando in Sardegna di valvole cracking vuol dire che a un certo punto il mezzogiorno non è condannato si tratta e anche lui dice io ho bisogno di strutture e infrastrutture tali che mi consentano di non sentire la cosiddetta non continuità territoriale su cui si battono ma anche da questo punto di vista il mezzogiorno che cosa fa per abbattere la continuità territoriale ti dà un contributo non è quello tu devi rimuoverlo attraverso l'offerta fisica in modo tale come succede nel nord se un quarto della tua produzione va al mezzogiorno significa che un quarto del tuo reddito e un quarto della tua occupazione ammesso che i coefficienti di produzione siano coefficienti costanti e non invece differiscono una zona all'altra ma questo per intenderci questo significa che mentre tu mi mandi danaro che mi tiene fuori mercato tu ti prendi reddito e occupazione lo scambio esiste una questione meridionale che è diversa da quella che i giustino fortunato i niti e gli altri hanno impostato che non è un problema che noi siamo svantaggiati quindi tu mi devi aiutare questo è una politica completamente sbagliata la richiesta che deve venire al mezzogiorno e non viene ancora deve essere del tipo dammi i presupposti affinché io possa dimostrare di essere all'altezza come ho dimostrato in parecchie occasioni vi ho fatto l'esempio di Grotaglia e l'esempio della Remosa di Gagliari affinché io possa effettivamente affermarmi su mercati internazionali attraverso gli strumenti moderni come quelli di telematica strumenti che come è noto reggono in modo molto importante questa nostra università grazie 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 grazie